Vi avevo detto che in passato mi sarei messo a cuccia su questa rubrica, tuttavia non posso, diciamo, esimermi da all'esporre quanto seguo. Allora, dovete capire e sapere questo. Parlate, insomma, diverse volte di Paolo Torrisi, quindi sapete come la penso. Tuttavia Paolo Torrisi è stato un doppiatore veramente straordinario. Perché? Perché è riuscito a, diciamo, con la sua voce, è riuscito a donare un'aura pressoché pazzesca ed eccezionale ad ogni dialogo che è stato inserito in Dragon Ball, nei film del 1996. Poi dopo, poi sono stati, diciamo, ridoppiati. Tranquillamente, insomma, il primo doppiaggio di Dragon Ball, nel 1996. Secondo doppiaggio, il primo era, mi sembra, di un certo montanare, mi sembra. Ed è stato veramente eccezionale. Non vuole dire una sciocchezza, o di Montanari o di Roma no. Comunque, è stato un doppiatore veramente eccezionale, Paolo Torrisi. Perché, oltre ad aver scritto tutti i dialoghi di tutti i film di Dragon Ball, per il personaggio di Goku e non solo lui, ovviamente, insieme anche a Turea Preta, questo l'ho già detto, lui è stato direttore di doppiaggio di tutti gli studi di Milano dagli inizi degli anni Ottanta fino alla fine degli anni Novanta, quindi dal 1980 circa, fino al 1990, e oltre ad aver avuto anche una grandissima carriera come narratore, se pensate a una bellissima storia pubblicata in VHS, quelle che sono considerate, sono universalmente riconosciute come le migliori storie mai raccontate dal... le fiabe mai raccontate in Italia, troviamo, per esempio, anche le storie di Paolo Torrisi, la favola, il giullare mingherlino, tra essi, in quel... lui, vabbè, ha anche inciso in VHS, su videocassetta, quella... quella storia ce l'ho anche, quelle videocassette, anche se attualmente non ho un registratore, insomma, per ascoltarle, insomma, ce l'ho, però non è facile, insomma, ascoltarle. e poi, cioè, non lo uso da tempo. E poi c'ho una... e quindi ha scritto delle canzoni, ovviamente... ha cantato delle canzoni anche per il Detoselli, quindi ha avuto anche una discreta noterità anche come narratore. Ma questo video vuole parlare di un altro aspetto di Paolo Torrisi. vuole parlare di, per esempio... vuole parlare, per esempio, di lui come direttore di doppiaggio, è stato, come dicevo, direttore di doppiaggio di tutte le società di doppiaggio milanesi. ed è stato direttore di doppiaggio per circa 20... per... circa 15 anni, un po' più di 15 anni, dello studio PB di Milano, della Mera, che anche di tanti altri... è stato direttore di doppiaggio almeno di 5 studi milanesi. contemporaneamente. Un lavoro eccezionale, affatto. Mai nessun altro doppiatore ho visto che è mai riuscito a fare un lavoro... a livello di quello che ha mai fatto Paolo Torrisi. Ovviamente lui non ha mai recitato, cioè non ha mai doppiato film, a parte quel film sui bottoni, lì, del... mi pare del 95. Però ovviamente sarebbe stato tranquillamente in grado di farlo. e ovviamente dovete tenere presente che comunque, insomma... cioè, voi trovate un doppiatore italiano, uno solo, un grande direttore di doppiaggio che è stato direttore di doppiaggio di 5 studi per quasi 20 anni. Poi dal 1900, insomma, 90... dalla fine degli anni 90 in poi, insomma, parliamo... dal 90... dal 96... alla fine degli anni 90, insomma, dal 97 in poi, più o meno... dopo il 95, fino al 2005, è stato direttore di doppiaggio alla fine... dal 97 circa, insomma, solo direttore di doppiaggio della Mera fino al 2005. e questo bisogna ringraziare C. Barcellini, perché è stato lui che l'ha scoperto. Cioè, lui gli ha affidato questi incarichi, anche se a lanciare, ufficialmente, Palo Torisi è stato, Vito Molinari nel grande paese dei Campanelli. Sto parlando ovviamente della mitica voce di Goku, alla quale ho dedicato anche un libro, come ripeto, tutti i dialoghi che hanno reso Immortale Dragon Ball, dal 1996 al 2018, quindi questo mio libro ripercorre. Poi ci sono... c'è anche una seconda versione che non è ancora uscita, che però comprende almeno una cinquantina di dialoghi, insomma, che non ho ancora inserito. Quindi il libro complessivamente è dotato di circa 70 pagine. Questo attuale saranno circa 35 pagine. Però, insomma, la prefazione scritta da me, ovviamente, i dialoghi sono quelli di Paolo Torrisi, Tullia Piredda, Manuela Scaglione, Alberto Olivero, Patrizia Scianca e Lidia Corbelli. Quindi, insomma, lei tra l'altro è stata anche dialoghista di Dragon Ball Super. Quindi va... ovviamente non li ripercorre tutti, quindi ripercorre circa 22 anni di storia del doppiaggio italiano, dal 1996 fino al 2018. E ci tenevo a dirvi questo. È un libro unico nel suo genere, e tra l'altro è anche l'unico libro che sia mai stato scritto e pubblicato sul mio blog, Blogspot Production, che è... tra l'altro adesso è stato letto, insomma, da circa una cinquantina di persone. Ringrazio davvero di cuore tutte le persone che hanno deciso effettivamente di leggerlo. E insomma, ci tenevo a dirvi questo. Niente. Tutti i dialoghi, ovviamente, sono risolvati ai suddetti doppiatori, anche alla famiglia, insomma, di Paolo Torrisi, che detiene i dialoghi, insomma, il copyright, insomma, su quello che riguarda quello che lui ha fatto. Cioè, Vito Molinari lo lanciò molti anni fa. E qui, insomma, ci tenevo a dirvi questo. E trovate un doppiatore. Ci sono diversi doppiatori bravi. Dal mio punto di vista, a livello di animazione, non c'è nessuno che ha il suo livello. E non, a parte, potremmo dire, Tonino Accolla e pochissimi altri, insomma. Potrei citarne anche altri. Diego Sapre, insomma, Giallo Cagliacono e altri. Pietro Baldi, insomma. È l'unico che forse, potremmo dire, ha maturato un'esperienza tale da poter essere considerato quasi al suo livello, insomma. in ogni tipologia di cartone animato possibile. E quindi, tra l'altro Diego Sapre, insomma, si è ritirato l'anno scorso. Poi, insomma, vabbè, ce ne sono anche tanti altri. Mario Zucca, insomma, e tanti altri. Potrei andare avanti, insomma. Elisabetta Spinelli, Cinzia Massironi, Debora Magnaghi. E, insomma, questo. Però, cioè, trovatemi un doppiatore oggi, o anche dopo il 2005, o anche prima, che è stato direttore di doppiaggio di tutte le società di così tanti studi contemporaneamente per quasi vent'anni come lui. Non c'è nessuno. Ci sono stati anche, insomma, bravi direttori di doppiaggio. Non lo so, per citarne alcuni attuali. Pino Insegno, Claudio Moneda, insomma, ha fatto anche degli ottimi doppiaggi. Gli ottimi direzioni di doppiaggio, ha curato. Claudio Moneda e anche altri. Però nessuno di loro è mai stato direttore di doppiaggio di più studi di doppiaggio insieme. Uno dei pochi che mi viene in mente che è stato direttore di doppiaggio, mi sembra, per un breve periodo, mi sembra, per due studi di doppiaggio, mi sembra, è Alberto Levero, pure uno tra i migliori direttori di doppiaggio, secondo me, della storia, in assoluto, dopo Paolo Torrisi. Almeno per quanto riguarda il doppiaggio d'animazione. Anche Claudio Moneda e Davide Carbolino sono eccezionali. Le direzioni di doppiaggio che ha curato e cura adesso per Doraemon sono un capolavoro eccezionale di questa storia televisiva italiana. e non solo, anche giapponese. Ma anche la stessa cosa, anche Claudio Moneda ha creato, insomma, delle cose eccezionali. Anche nel doppiaggio di Dragon Ball Super, che per esempio è stato diretto da lui, ha creato veramente qualcosa di spettacolare. Basta pensare anche allo scontro tra Giren e cose, insomma. Luca Ward, insomma, sì, è stato anche direttore di doppiaggio, insomma, diverse cose. Però neanche lui è mai stato direttore di doppiaggio, per esempio, perché oggi è quello a cui sono affidate la stragrande maggioranza dei film che abbiamo in Italia, i tutti i film più importanti. Quando era vivo Tonino Accolla in qualche modo erano divisi anche un po' a lui, erano affidati. Però, insomma, quasi tutti i film più importanti a livello di progetti erano affidati quasi tutti a lui, insomma. Quindi ci tenevo a dirvi questo, insomma, e basta. Buona. Questo è per far riflettere anche, insomma, alcuni che, per esempio, non dicono che non è vero che Paolo Torrisi è stato uno tra i più grandi, Maurizio Torresani, in arte, Paolo Torrisi, uno tra i più grandi doppiatori della storia. Tra l'altro, in diverse classifici, è inserito come uno tra i tre più grandi doppiatori. Io, da blogger, lo inserisco nel... Molti dicono, sì, vabbè, ma tu che ci capisci il doppiaggio? Allora, io faccio parte della community di Voci.fm e del sito Il Mondo dei Doppiatori di Antonio Genna, tra l'altro il più grande, è l'unico che in Italia riesce effettivamente a orientare le scelte del doppiaggio Italia a fare in modo che siano affidati a grandi doppiatori. Forse ci riesce anche più di quanto non ci riesca Luca Ward, perché il suo è un sito enciclopedico che in effetti, in qualche modo, influenza e orienta, non decide, però orienta anche le scelte delle società di doppiaggio, insomma, americane, che poi affidano agli studi italiani, insomma, determinati doppiaggi. E si basa anche sulla storia, diciamo, enciclopedica, sul successo dei film, sulle recensioni critiche avute, dal successo dei doppiatori italiani che hanno già doppiato determinati film. Questo lui lo disse anche in un'intervista del 2010, quindi non mi sto inventando nulla. E, tra l'altro, io ho curato, insomma, qualche doppiaggio amatoriale, anche per la mia pagina di voce.fm, per esempio, io ho doppiato anche, insomma, qualche cosa, una scena di Harry Potter, l'ho ridoppiata, con la mia voce, quindi, ho rifatto un doppiaggio di Silente, poi, vabbè, ho rifatto anche un doppiaggio di Voldemort nel 2015, poi pubblicato nel 2022, sul blog dei doppiatori, insomma, la community più importante per l'Italia, di oltre 10, contiene oltre 10.000 iscritti, insomma, e poi, ovviamente, trovate anche, ovviamente, trovate anche, c'è anche un video sul mio canale, che in realtà, in questo io veramente ne vado fiero, tra l'altro, Paolo Torisi, tra l'altro, è stato anche citato nel doppiaggio, quindi è stato citato anche da, 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 da coso, Egidio Morici, un bravissimo giornalista, e dal padre, soprattutto, che si vede che uno ne capisce i doppiaggi di Gironamo Morici, ed è stato considerato, definito anche il doppiatore dei sentimenti di Egidio Morici, e anche, considerato da Egidio Morici, il più grande doppiatore in assoluto, il più grande direttore di doppiato, forse il più grande doppiatore in assoluto, è un po' eccessivo, però è uno tra i migliori in assoluto, direttore di doppiaggio sicuramente è il migliore, infatti, io, una classifica che feci, l'ho messo al primo posto del più grande direttore di doppiaggio della storia. Per quanto riguarda, invece, il doppiaggio, quindi potremmo dire che è eccezionale, eccezionale, tuttavia, tuttavia, insomma, io, per esempio, ho doppiato, ho fatto anche un doppiaggio amatoriale, che non è ufficiale, però, ho ridoppiato anche la voce di Barbossa, ho fatto anche un ridoppiaggio di Barbossa, quindi, di Pirati dei Caraibi, la cui voce originale normalmente è di Piero Baldi, tra l'altro è stato il mio mentor, insomma, mi sono ispirato moltissimo a lui, e sul video che trovate proprio in questo canale c'è un un doppiaggio che io ho fatto, parliamo di pochi secondi, no? E di questa voce, no? Di Barbossa. e tra i commenti troviamo un commento di uno tra i più grandi doppiatori di quest'epoca, che è il doppiatore di il Sargente di Full Metal Jacket, ossia doppiato da Erospagni, che inizialmente mi ha criticato, poi alla fine ha definito, mi ha definito come una persona di talento, quindi se uno come Erospagni mi dice che io ne capisco, io quando parlo e faccio, insomma, determinate affermazioni da da autodidatta, sono comunque fatte da una persona e comunque è competente in fatto di doppiato, sicuramente io a livello di edizione insomma sono un po', conosco alcune cose basilari perché lo studiate da autodidatta, però insomma, adesso per esempio quando parlo normalmente non utilizzo insomma la edizione perché non è che sto recitando, sto facendo qualcosa, quando per esempio c'è anche una mia amica Giada che ha studiato per diversi anni, per esempio anche quando mi sento di doppiare sei in gap, però io non parlo di quello che dico però lascio che la valutazione di Erospagni è una valutazione che in effetti non può dare adito a dubbio perché proviene da uno tra i più grandi doppiatori, forse io lo preferisco anche a Luca Ward, senza nulla togliere a Luca Ward e a Monica Ward che adoro immensamente anche per il doppiaggio che ha fatto sia del Relevone, lui, nel film recentemente, di Mufasa ma soprattutto Monica Ward anche per il grandissimo doppiaggio storico dal 1989 ad oggi quasi più di 30 anni che doppia la mitica Lisa Simpson quindi le mando un abbraccio forte e insomma saluto anche la Giada che è un'attrice pazzesca la moglie di Luca Ward e insomma vi saluto e ci tenevo a dirvi questo quindi quando mi dite dice sì vabbè io non sarò eccezionale a livello di doppiaggio sicuramente ho fatto anche alcune lezioni di doppiaggio in remoto con Luca Ward con con Francesco Pannofino e altri dell'Accademia Artisti di Roma che ho seguito insomma in remoto sul canale YouTube appunto dell'Accademia Artisti di Roma però diciamo ho imparato da autodidatta a leggere con una lettura espressivica una lettura espressiva questa è sempre la nippe del a volte sbaglio non dipende da me e una lettura espressiva espressiva tipica di chi legge con la voce impostata ad attore quindi decidiamo a dirvi questo insomma e basta quindi tenete presente che io non sarò esperto non sarò eccezionale però quello che faccio insomma proviene comunque da una persona che sia una cultura infetto di doppiaggio perché è un grande appassionato riconosce anche voci di attori diversi ma è anche una persona che comunque ha studiato un poco doppiaggio un poco e un po' di edizione anche da autodidatta è una persona comunque competente in quest'ambito qualcosa l'ho fatta insomma ho prodotto insomma alcuni promo ho realizzato alcuni promo per voci.fm e anche ho fatto attività di consulenza radiofonica per alcuni per alcuni documentari che sono usciti sempre su voci.fm quindi per esempio il documentario dedicato a David Bowie per esempio l'ho ideato io la stessa cosa anche il documentario per esempio che ho fatto attività svolto attività di consulenza radiofonica anche per il doppiaggio di Monica Vitti il documentario è stato fatto su di lei su Tony Fuochi quello che è stato fatto su Renato Cecchetto che trovate ovviamente sul canale youtube di voci.fm poi ci sono anche altri due ovviamente documentari che sono in produzione su due due bravissimi doppiatori scomparsi uno dei quali l'ho anche citato qui in questo video ovviamente non sto parlando di Paolo Torri e ovviamente anche su un altro doppiatore diciamo che col quale io ho veramente avuto l'onore di collaborare e del quale trovate anche un'intervista sul canale youtube Ecclopedia del Doppiaggio per sempre il mondo dei doppiatori di Antonio Genna al quale mando un saluto dato che è un mio amico di facebook e lo ringrazio sempre perché cura in maniera veramente eccezionale da oltre vent'anni che è una risorsa immensa diverse volte io l'ho anche insomma non è perfetta qualche volta qualche cosa dovrebbe essere migliorata però eccezionale è un sito veramente enciclopedico eccezionale dicevo questo doppiatore insomma ha doppiato anche un personaggio nella serie dei medici e insomma immenso anche lui così come Giovanni battezzato e tanti altri anche Eneri Marco Re ha fatto un ottimo doppiaggio insomma non a livello di Giovanni battezzato però sempre eccezionale tra l'altro Erospagni invece si è ritirato da poco però ci tengo a mandare un abbraccio forte anche lui ciao buona missione